E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Per Massimiliano Allegri è una sorta di ritorno a casa. La Spal è stata la seconda squadra allenata nella sua carriera 14 anni fa in Serie C1. Il tecnico livornese si presenta al Mazze esibendo una striscia di 12 vittorie consecutive che hanno proiettato la Juventus al comando della classifica. Ma tra le squadre in lotta per non retrocedere, la Spal è quella che sta meglio. Sette punti nelle ultime tre gare. Intensità e ritmi alti, solo così la Spal riesce a limitare gli assalti bianconeri. Tenere fisicamente per strappare un punto è la missione della ripresa. Per il sinistro, smalacciato in maniera efficace da Meret. Occhio a Chiellini. Alla sua zingarata e poi il tocco fuori per Di Bala. Di Bala allunga verso Douglas Costa. Prova di piegare la Spal. Douglas Costa lascia sul posto Felipe. Val traversone! Cambia direzione, cambia tutto Pjanic. Occhio a rimpallo. Alexandro col sinistro. Stavolta nessuna giocata individuale soccorre la Juventus. La Spal impone lo 0-0 e offre un assist al Napoli. C'è da fare i complimenti alla Spal per la partita difensiva che ha fatto. Sono partiti bene, hanno dato una buona pressione. Noi siamo partiti un pochino a rilento. Però dopo 30 minuti della partita è stato totalmente capovolta. Perché abbiamo preso possesso della partita. Il problema è che siamo stati poco veloci, poco lucidi. e quindi abbiamo fatto un bello 0-0. Sicuramente questo punto era inaspettato e impensabile. Ci deve dare forza, autostima. Però non abbiamo fatto niente. Il nostro percorso è lunghissimo. Anche vedendo poi i risultati delle squadre avversarie. Quindi bisogna rimanere con i piedi per terra. Andando in mente dalla risonanza potrei avere questo risultato.